Parla tifoso napoletano. Siamo tornati con le notizie più interessanti sul nostro club preferito. Ma prima di iniziare ricordatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su quello che succede con il Napoli. Veniamo ora alla notizia che farà emozionare molti di voi. Zlatan Ibrahimovic, il gigante svedese, potrebbe arrivare al Napoli. Sì, hai capito bene, non è una voce. Questa informazione è stata confermata da Enzo Raiola, cugino di Mino Raiola, che, come sapete, è un nome molto familiare quando si parla di trasferimenti di giocatori. Secondo quanto rivelato sulle pagine di TuttoSport dal cugino di Mino Raiola, quando Ibrahimovic ha avuto l'opportunità di tornare in Italia e valutare un'offerta del Napoli, Mino Raiola ha espresso il suo sostegno a questa idea. La possibilità che Zlatan Ibrahimovic indossi la maglia del Napoli è qualcosa che sicuramente fa battere più forte, il cuore dei tifosi. Sarebbe un'aggiunta incredibile al nostro team, portando esperienza e qualità innegabili. Ora voglio sentire la tua opinione. Cosa ne pensate di questa possibile assunzione? Immaginate l'impatto che Ibrahimovic potrebbe avere sulla nostra squadra. Lascia i tuoi commenti e discutiamo di questa entusiasmante possibilità. E, naturalmente, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità sul Napoli. Al prossimo! Forza Napoli sempre!